Musica 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 Si, non lo vedevano, non lo vedevano, non lo vedevano, non lo faccio, non lo faccio. Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Non lo faccio adesso, non lo faccio. Quindi sarebbe funzionale a dire la Ωmissima, la Trosteire, non lo faccio. C'è il bordello da testo? ma che è strano? Ma che è che è strano? Voi l'è il cuore. E' ovcina! E' il cuore. E' il cuore. Il cuore. L'acqua. Il cuore. Il cuore. Il cuore. Il cuore. Grazie a tutti.